Guarda, contatto Sebastian Vettel Oh, Massa, Massa, qui lui ha perso tanto Non ha senso questo che ha fatto Felipe Massa perché Massa non stava lottando con nessuno Qui si trovava veramente un po' in mezzo di nessuno e ha anche rischiato un po' C'è stata la reazione da parte di Sebastian Vettel nei confronti di Felipe Massa Perché sentiamo anche chi vede Ma l'abbiamo stato Sì, era rischioso perché Vettel non aveva capito molto bene che lo stava facendo Felipe Massa Tu forse lì in curva 3-2, non sai bene qual è la percorrenza correa Però lì, sei doppiato, ti sposti